Ci sono delle norme che evidentemente avevano bisogno di essere modificate, nuove attività, di essere inserite, dare dignità ad alcune attività, tra questo lo sport per esempio, tanto per dirne una, all'interno di un meccanismo che non vede più lo sport servente rispetto ad un modello legato alla disciplina sportiva, ma vede lo sport prima di tutto pilastro del sociale all'interno del quale possono farsi diversi percorsi, possono intraprendersi diversi percorsi legati alla disciplina, ha la voglia di ottenere una medaglia che rende onore a tutto il paese, ha la voglia di intervenire sull'inclusione sociale attraverso il veicolo sportivo, in entrambi casi si parla di sport e lo sport nel terzo settore non sarà diviso per discipline.